Buonasera, ben ritrovati con CISL Liguria News, l'approfondimento sindacale sulle tematiche dell'occupazione relative al nostro territorio regionale. Oggi parliamo di pensioni, delle rivendicazioni delle categorie che ne difendono il potere d'acquisto che è sempre più distante rispetto al reale costo della vita. Per questo abbiamo sentito Gianfranco Lagostina che è il segretario generale della FNP, la Federazione Nazionale dei Pensionati della CISL Liguria. Stiamo facendo iniziative in tutta Italia come pensionati CGL e CISL in un momento estremamente difficile, ma anche determinati nel volere, nel cercare di ottenere dei risultati. Noi non chiediamo la luna nel pozzo, chiediamo che le pensioni vengano aggiornate al costo della vita e diciamo anche come trovare e prendere i soldi dall'evasione fiscale e dal risparmio che va fatto sui costi della politica e nella pubblica amministrazione. Ecco, poche cose, poche cose perché i pensionati chiedono, ma chiedono fatti. È chiaro che collegata questo c'è la questione del lavoro, perché sappiamo che se non aumenta il lavoro nel nostro Paese e si risolvono i problemi dei giovani, è difficile risolvere le problematiche e far uscire questo Paese dalla crisi. Oramai su 17 milioni di pensionati alcuni milioni sono alla povertà e non è possibile in un Paese che si vuole definire avanzato, che si vuole definire un Paese al centro dell'Europa, un Paese tra i fondatori dell'Europa, i pensionati rimangono fuori, perché non c'è solo la questione poi della rivalutazione, c'è anche la questione del sociale, del welfare per i pensionati, il problema socio-sanitario. Ecco, in questo contesto che noi manifestiamo quasi tutti i giorni in Italia. Grande rilevanza per lanciare questi temi in ambito nazionale l'Assemblea pubblica indetta da CGL, CISL e UIL per cambiare la legge di stabilità. Ecco, in questa manifestazione che si sta consumando in Liguria noi chiediamo meno tasse per i lavoratori e pensionati, la difesa del lavoro, per il futuro anche del lavoro, nuove politiche industriali, attuazione degli investimenti e quello che dicevo prima, avere una politica sociale che sia all'altezza con gli altri grandi Paesi europei. Bene, con questo abbiamo davvero concluso, ma vi ricordiamo che per informazioni, notizie e approfondimenti è possibile consultare il nostro sito internet www.liguria.cisl.it. Grazie a tutti per l'attenzione e alla settimana prossima.